Io provo a presentarla così, Siracusa, città d'arte, ritrova l'arte. Sì, punta sull'arte per ritrovare, per riimmaginare, per ripensare un futuro. Ecco perché questo progetto si chiama Rebuilding the Future, parliamo di arte contemporanea, parliamo di installazione di 10 artisti nazionali e internazionali selezionati da un grande storico dell'arte, espressione importante della cultura in Italia, il direttore artistico Marco Pierini, parliamo di un progetto su cui l'amministrazione punta moltissimo, un progetto finanziato con fondi europei, proprio per il rilancio non solo di Siracusa come capitale della cultura, ma anche per la possibilità che questo progetto avrà di riqualificare un'area importante nella nostra città, l'area che lambisce la pista ciclabile a Siracusa. Direttore, cosa ci ha preparato Di Bello? Il progetto è un progetto molto complesso che si articola nello spazio breve di tre mesi, ma che in realtà propone molte cose, un convegno dove si introdurranno anche i temi dell'intero progetto, ma si ragionerà sui modelli innovativi di progettazione culturale, di fruizione culturale e di gestione. Si parla tanto di cultura in Italia, ma se ne parla sempre come se chi poi ne dovesse godere fosse un consumatore, invece il primo interessato all'arte deve essere il cittadino. Parleremo di questo e di come dal basso si possono costruire dei modelli veramente innovativi e anche poi produttivi dal punto di vista persino economico. Poi invece ci sarà questo parco di sculture, che è naturalmente l'asse portante del progetto lungo la pista ciclabile, con dieci installazioni, tutte pensate ad hoc per ogni singolo spazio, e in relazione alla storia o al presente o al passato, ma sempre un occhio verso il futuro di Siracusa. C'è poi una mostra all'ex chiesere Cavaliere di Malta, pensando al futuro abbiamo chiamato solo artisti under 35, da tutta Italia ma di varie nazionalità. L'importante è che avessero studiato in Italia o che residessero in Italia per capire quanto il peso della nostra tradizione artistica e culturale influisca sul loro lavoro. Infine una serie in questi giorni del Festival di concerti straordinari, ovviamente labirinti sonori, che è un festival ben noto di grandissima qualità che da molti anni si faceva e si fa a Siracusa, e una performance di musicisti e ballerini hip hop, e sabato il concerto di Rais degli Esches, che è un evento abbastanza straordinario con musicisti che vengono davvero da tutta Europa per questa occasione. In un paese dove si guarda e si parla di cultura, soprattutto al passato, puntare sulla contemporaneità è complicato? Rende un'operazione intelligente? È un'operazione intelligente, non sto dicendo che la stiamo facendo, poi questo verrà giudicato ovviamente, ma è intelligente puntarci, perché tutto il nostro passato, tutto, è stato fatto da grandi contemporanei, noi non possiamo vivere sulle loro spalle, dobbiamo tentare di essere al loro livello, magari non ci riusciamo ma dobbiamo essere sempre propositivi, se riduciamo l'arte a un consumo di qualcosa che è già stato, abbiamo perso in partenza. Assessore, qualche polemica di contorno con Rebuilding the Future, ma è una di quelle occasioni in cui il Comune in realtà è riuscito a intercettare delle risorse e la famosa programmazione europea, per cui forse tutto da rispedire al mittente? Sì, si tenta in modo strumentale di far passare queste attività come attività futili con cui si sprecano soldi del Comune, non è assolutamente così, si tratta di fondi europei che al contrario questa città sta cercando di spendere, a differenza di come avviene invece, ahimè, spesso in Italia e in particolare in Sicilia, si tratta fondi che non possono che essere destinati al progetto specifico, quindi per intenderci con queste somme noi non possiamo finanziare la manutenzione stradale oppure attività per le famiglie disagiate. Possiamo solo fare questo progetto, la nostra ambizione è di fare questo progetto non solo al meglio possibile, ma anche lasciando un segno importante in città, un parco d'arte contemporanea che possa diventare motivo di attrazione culturale e anche turistica per la nostra città. Grazie a tutti, grazie a tutti.